Greta Rossetti annuncia l'intenzione di abbandonare il grande fratello. L'influencer, entrata in corsa nella casa dopo aver visto il compagno Mirko Brunetti riavvicinarsi alla ex fidanzata per l'avatiero, aveva intenzionalmente deciso di lasciare Mirko e di vivere questa esperienza da single. Ma adesso che Brunetti è stato eliminato sembrerebbe avere cambiato idea, tanto da voler abbandonare la casa di Cinecittà pur di recuperare quel rapporto. Parlando con Rosicina e Monia La Ferrara del rapporto con Mirko, per il momento è stand-by, Greta ha dato voce al desiderio di abbandonare la casa. Sarebbe disposto a farlo però solo se Mirko palesasse l'intenzione di tornare con lei. Se viene qui e mi dice torniamo insieme ed esci, io esco subito. E se invece viene qui e mi dice torniamo insieme ma adesso goditi il tuo percorso, io dico no. Se lui mi vuole e mi viene a prendere, io esco. Greta ha quindi commentato e difeso la scelta del tatuaggio di copia fatto con Mirko, un pegno d'amore che celebrerebbe un legame che la donna avverte essere speciale, diverso da tutti quelli vissuti fino ad oggi. Io ho sempre frequentato ragazzi molto diversi da Mirko, eppure con lui è speciale. Io mi sento legata a lui a livello umano, sento il legame dentro che mi tiene a lui. Non so spiegarlo bene ma sento qualcosa. Io gli dicevo sempre in qualsiasi forma ma io ti vorrò comunque nella mia vita perché ci facciamo bene, per quello che ci siamo fatti il tatuaggio. Però la gente ci ha presi in giro e ha scherzato. Grazie. 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 Grazie.